gamescom 2019 siamo qui a colonia primo giorno di fiera un giorno che umberto ha iniziato in modo scoppiettante sconvolgente riprovando di nuovo google stadia ma con un interessante colpo di scena con un twist con più di un twist perché allora se diciamo che sono due le anzi direi che sono tre le peculiarità che distinguono questa prova della games con 2019 rispetto quella precedente però io voglio sentire solo le prime due ok allora non ti dirò proprio non ti lamentare e poi non te la dico più quindi sappiate che state perdendo un pezzo di informazione allora intanto l'abbiamo potuto provare sulla tv attaccato al chromebook un po come avevamo fatto durante la gdc 2019 e poi abbiamo potuto provare anche su pixel 3 quindi diciamo sul telefono di google per chi non seguisse troppo che sarà l'unico su cui uscirà stadia al lancio corretto in entrambi i casi i dispositivi erano connessi alla connessione via cavo quindi nemmeno via wifi è una connessione passi via cavo il cellulare era collegato via cavo perché è tramite usbc tramite usbc allo switch alla al cavo ethernet in entrambi i casi quindi avevamo una connessione estremamente solida una connessione dedicata che ha permesso di avere una prova diciamo in ecosistema controllato un ecosistema scelto da google è un test non perfettamente provante per quelle che saranno le stabilità poi la stabilità insomma dell'esperienza quando poi si andrà a giocare in una situazione normale chiaramente è tutto filato liscio non abbiamo avuto problemi di di latenza nemmeno di calo di frame rate diciamo che rispetto a quelle che erano state le prove di alcuni mesi fa di alcuni giornalisti stranieri non abbiamo avuto alcun tipo di problema ripeto è un ambiente troppo controllato noi comunque abbiamo chiacchierato purtroppo non c'erano rappresentanti del team di sviluppo c'erano soltanto rappresentanti del team di pubbliche relazioni quindi diciamo non le molto gentili ma non le persone perfette con cui chiacchierare dei aspetti più tecnici di quello che va non va perché diciamo è come parlare con il libro ufficiale delle risposte di stedia loro ci hanno detto ci hanno ripetuto chiaramente che è pensato per essere utilizzati in un ambiente wifi quindi il 4g non verrà mai supportato il 5g verrà supportato in un secondo momento perché secondo loro è una tecnologia che oltre avere una diffusione molto limitata è ancora troppo instabile quindi pensate di giocare con stedia con o il cavo ethernet oppure il wifi quello è l'ambiente per il quale al momento google lo sta sviluppando perché chiaramente ci sarà il 5g perché chiaramente ci sarà tutta l'evoluzione di una tecnologia che come è stato già ripetuto molte volte è in realtà un percorso non è una console bisogna staccarsi dall'idea della console classica comunque la risoluzione salirà comunque le macchine verranno aggiornate ed evidentemente anche la connettività che permetterà di giocare con stedia muterà nel tempo noi appunto quello che abbiamo provato sia con Doom Eternal che con Mortal Kombat 11 che era la terza novità che alla fine sono riuscita a dirti comunque non abbiamo avuto alcun tipo di problemi i giochi sono quelli diciamo che sulla tv si vedevano benissimo perfettamente sul telefono c'era soltanto Mortal Kombat ma non perché ci fosse un problema con Doom semplicemente hanno detto che avevano quello installato i giochi giravano perfettamente che poi mi fa ridere l'idea che avevano quello installato teoricamente ci dovrebbero stare tutti i giochi avevano quello installato, avevano quello a disposizione dell'interfaccia su Chrome si è sbagliata l'espressione installata hai potuto provare però il pad mi dicevi per la prima volta hai provato il controller di Google Stadia ho potuto provare il controller che era lì disponibile in due colorazioni quella diciamo classica bianca bianca con i pirolini sotto gli analogici arancioni e poi quella di quel verdino sbiadito che non so se è presente non c'era quella nera comunque beh diciamo la colorazione poi non cambia quella che è la sostanza di un controller molto leggero che dà una sensazione di solidità cioè non ti dà l'idea di essere una roba che ti si spezza in mano e che però io l'ho trovato abbastanza distante da quella che è la qualità del controller per Xbox One o del DualShock diciamo che allora gli analogici sono fatti bene gli analogici ho trovati è buona la plastica dei gommini è buona la risposta hanno una buona resa i tasti frontali pure non sono malvagi i grilletti molto meno bene la croce direzionale che è veramente sembra la croce direzionale del primo pad Xbox una roba un po' un po' così i grilletti diciamo i dorsali hanno un buon click i grilletti per ora non ce la fanno ma perché è un errore di è uno sbaglio di corsa uno sbaglio di resistenza non ha resistenza cioè i grilletti dietro non hanno resistenza al momento questi modelli che però non sono assolutamente definitivi non avevano il force feedback erano comunque ancora dei prototipi chiamiamoli così manca poco all'uscita ma quelli erano ancora dei prototipi diciamo che allora se devo pensare che comunque è un controller che ti devi portare dietro perché se giochi col Chromebook te lo metti nello zaino se giochi sul telefono comunque lo metti nello zaino ci sta un controller non troppo grande molto leggero però è anche vero che abituati ai controller di Playstation e Xbox se i giochi sono quelli un po' si sente la differenza i controller non è mai facile farli giusti al primo colpo vedremo quello non mi ha convinto molto allora comunque per quanto riguarda Stadia sicuramente torneremo a parlarne di nuovo ancora credo nei prossimi mesi fermo restando che poi a novembre c'è questo chiamiamolo soft launch questo lancio delicato leggerino questo lancio più che un lancio tramite appunto la Founders Edition se non ricordo male si chiama proprio Founders Edition come le schede video di Nvidia questa Founders Edition che sarà soltanto appunto per la parte a pagamento perché poi quella gratuita arriverà all'inizio del prossimo anno quindi probabilmente se non capiterà di rincontrarlo in qualche fiera immagino qualcuno di noi si farà l'abbonamento si farà la Founders Edition e lo proverà certamente sì quindi seguiteci perché non soltanto vi continueremo ad aggiornare su tutte le novità della Gamescom 2019 ma torneremo anche su Google Stadia fino all'uscita della nostra recensione e anche dopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.